Mentre l'argomento Green Pass è sempre più al centro dell'attenzione in questo periodo dove si tenta di tornare ad una pseudonormalità, continua la somministrazione dei vaccini anti-covidi-19 alla popolazione, vaccini che approdano adesso anche nei centri commerciali. Ma gli effetti collaterali del post-vaccino non per tutti sono così leggeri come si pensa, anzi tutt'altro, infatti un paziente ha vissuto momenti di panico e tensione. È la storia di un uomo di Siracusa, Tony Fanciullo, di 56 anni, artista scenografo, che dopo la somministrazione del vaccino Pfizer ha completamente perso i sensi, svenuto dopo dieci minuti dalla inoculazione del siero. Lo stesso Tony Fanciullo ci ha raccontato la sua tragica esperienza quando venerdì scorso, il 9 luglio, si è presentato alle 9 del mattino a seguito di prenotazione all'Urban Center di Via Nino Bixio per la somministrazione della sua dose di vaccino. Dopo dieci minuti dalla somministrazione ho iniziato ad avere tachicardia, il cuore batteva sempre più forte e aumentavano i capogiri. Quando tentavo di alzarmi, racconta Tony, finché il suono delle voci dei presenti si affievoliva sempre di più e sono svenuto per terra. Immediato l'intervento dei medici, che hanno cercato sul posto di rianimarlo, ma nulla da fare, Tony non rispondeva agli stimoli provocati. Attimi di tensione che portano i medici presenti sul posto a chiamare un operatore del 118 per l'arrivo di un'ambulanza e l'immediato trasporto all'Umberto I. Tony inizia a riprendere i sensi dopo 20 minuti di assenza. Racconta di ricordare un'equipe di medici attorno a lui in attesa dell'arrivo dell'autoambulanza perché quella presente sul posto all'Urban Center era sprovvista dell'autista e degli operatori del 118. Arrivato al nosocomio siracusano, i sanitari danno via a tutti gli accertamenti del caso, analisi specifiche e hanno monitorato il paziente fino a tardasera. I medici ritengono che Tony debba restare due giorni ricoverato sotto osservazione, ma lo stesso decide di firmare e andare a casa dopo la tragica giornata per la somministrazione del vaccino anti-covid Pfizer, come lui racconta. A distanza di sette giorni sto ancora malissimo, dice Tony Fanciullo. Non riesco a portare a termine lavori fisici. Continua stanchezza, spossatezza, dolori al corpo, mal di testa, pesantezza alla fronte, nausea. Per il momento non godo più della buona salute che avevo prima della vaccinazione. Ho dovuto fare il vaccino per la Green Pass, dice, ma oggi, dopo questa esperienza, ci penserei due volte, ribadisce Fanciullo. Adesso è in crisi se effettuare o no la seconda dose di vaccino anti-covid.